Ma aspetta, ma perché sto facendo il cane? Non dovrei essere una nutria. Meglio! Ciao a tutti, tazzi smettazzi di caffè, tazzi adepti, io non sono Alienozzo e oggi siamo su Minecraft. Avete visto la scritta adepti, so che siete attenti. Oggi siamo su Molycraft, è una modalità adepti molto simile a un survival games di Minecraft. Però diciamo che l'ambientazione del campo di battaglia è molto diversa perché è del tipo ultraterreno. Cioè vabbè non diciamo ultraterreno, sarebbe meglio dire tipo sottoterra, come delle vere e proprie nutrie. Oddio sta per iniziare. Allora niente, adepti vi devo dire, quindi siamo su Molycraft. Inoltre durante lo svolgimento, come vedremo, non so perché sono invisibile, però durante lo svolgimento della partita compariranno tipo delle scritte che andranno a diciamo caratterizzare un po' in modo particolare l'evento. Allora, vedete, quindi siamo sottoterra adepti. Dobbiamo stare, perfetto, ho già trovato una cesta perché ovviamente adepti trovate di tutto e di più qua dentro. Ovviamente voi sapete che io sono un tipo diciamo molto noob in questa modalità di gioco, però adepti stiamo molto attenti. Allora, qua vediamo innanzitutto abbiamo pozione di invisibilità, di invisibilità che per me non serve assolutamente a nulla. Attenzione ho visto uno lì adepti, dobbiamo stare molto attenti. Ecco, secchiamo le tracce adepti, questo qua si è chiuso. Piano piano, lo so adepti che non vedete nulla, comunque non so se avete capito, siamo in una nuova modalità di Minecraft, ecco, in poche parole. Attenzione, ok, ho trovato qualcos'altro, visione notturna, perfetto, io direi di utilizzarla subito adeptissimi. Oh, così anche voi vedete meglio. No, no, ecco, avete visto l'evento che vi stavo parlando, quindi praticamente inventory drop, cosa vuol dire? Ci ha messo tutto a caso dentro l'inventario, però alla fine è mica così tanto male. Poi ovviamente adepti per svuotare l'inventario dalla terra basta fare slash dirt. Allora, vediamo un attimo di farvi capire cosa sto facendo. Cacchio, player, 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 oddio, no, mi ha ucciso, porca vacca, ha dettissimi. Comunque avete capito un attimo come è la modalità di gioco? Vabbè, ci rivediamo immediatamente in un nuovo mitico episodissimo. E' Dio del cielo, e tu mi ascolterai, e tutte le nutrie, e tu a niente rai. Oh, e ci risiamo adeptissimi, finalmente in partita, mamma mia adepti, non potete capire quanto cacchio ci mettiamo per rientrare veramente. Comunque adepti, la partita di prima è stata molto confusionaria, perché veramente si è capito veramente poco, anche perché mi hanno ucciso in due nanosecondi, ho detto talmente tante cose velocemente, quindi mi scuso. Cioè, cerchiamo di fare meglio adesso, quindi adepti vi dico, ovviamente l'obiettivo è quindi quello di scavare come delle vere proprie talpe, stiamo molto attenti, soprattutto al suono, perché come vedete non possiamo vedere assolutamente la mazza, tranne fango, fango e ancora fango. Io ho fatto qualche partitina prima, e ho notato che molti, cioè quelli più bravi ovviamente, vanno di so... Sentite? Sentite adepti? È qua vicino, è qua vicino, il canino, ecco, l'ho visto, l'ho visto, corriamo, via via via, let's go, let's go, let's go, non sto vedendo assolutamente nulla adepti. Oddio, ce n'è uno lì adepti, ce n'è uno lì, uno qua l'ho visto. Speed, speed, bene, mi ha dato la velocità, avete visto l'evento che vi stavo parlando prima adepti? Eccole qua, lo sento, lo vedo, lo vedo che è qua, arrivo, 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 dai, 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 è qua. Eccolo, si è nascosto, si è nascosto. È qua, è qua, è qua, è qua, è qua, cerchiamo di non farci uccidere. Uh, 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 attenzione, 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 sei invisibile, man. Bene, 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 benissimo, benissimo. Switch. Ah, ok, switch sarebbe un evento che mi permette quindi di cambiare la posizione con un altro avversario. In questo caso l'avversario si trova esattamente in questo buco, però io direi meglio adepti, meglio essere in questo buco. Allora, cosa ho trovato? Un elmetto, va benissimo. 23 di torcia che non è male, pozioni di invisibilità. E soprattutto il latte. Il latte è fondamentale perché magari un evento può dire siete avvelenati, quindi vi salva assolutamente del latte. Se no, schiattate, cioè non è che schiattate, arrivate, rimanete con mezzo cuore, però non è il massimo. Ho visto che molti utilizzano la tattica dell'invisibilità. Superspade, non so cosa intenda con Superspade. Però, stiamo molto a... Ah, mamma mia, ah, quindi vai... Ah, niente, avete visto, adepti, è durato pochissimo, cioè ci dava la possibilità di essere molto, ma molto, ma molto, più veloci nello scavare. Cioè, nel senso, ci apriva i varchi, ecco. Shhh, 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 eccolo, eccolo, lo sento adepti, è qua, è qua adepti, bisogna stare attenti. È qua, lo sento. Non lo vedo. È qua, è qua, è qua. Allora... Dai. No, mi ho ucciso, porca vacchissima, adepti. Sono un pirla, mamma mia. Va bene, dai, adepti, ci rivediamo. Avete visto quanto sono un pirla? L'avete visto, Detti? Dai, ci vediamo, magari, in un'altra partita. Altre sette ore. No, 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 no. dai ben adepti preghiamo preghiamo veramente cerchiamo io davvero mi cago in mano adepti perché sento tutti sti infami qua benissimo olale bene 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 ragnatele eh io non sono un amante delle ragnatele anche perché adepti non le uso quasi mai vabbè dai buono quindi siamo già un pochino più forti io utilizzo le torce adepti soprattutto per voi perché poi non vedo una mazza e giustamente anche voi non vedete una mazza ancora di più buonissimo 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 scusatemi ma quella cagarella che non manca mai velocità io direi velocità utilizziamo la party mi ha dato una torta grazie men auguri anche a te ok non so perché sto scavando con le mani non si sa va bene adepti quindi ho la pozione della velocità che ovviamente benissimo bene 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 che c'ho grandi grande cavolo adesso potete vedere bellissimo anche voi però quanto dura la pozione della notturna e vabbè quasi due minuti dai ci sta ci sta io sto scavando come un dannato half life perfetto ci ha dato metà vita che mi fai ok bene stivali bisogno tutela già abbiamo latte io già l'abbiamo scala pioli già l'abbiamo io direi latte per sicurezza prendiamolo io faccio così adepti perché mi sto cagando letteralmente sento qualcuno sento qualcuno io direi utilizziamo questa dov'è che si sono menati in adepti voi l'avete visti per caso pane 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 ok ok abbiamo di qua a caccia di mutri adepti a caccia di cavolo non ti giuro questa questa cavolo di come si chiama pala ecco grazie adepti cester e filo ok ok perfetto quindi sono state riempite un arco e una spada che non fa male io direi anche tnt usiamola non vedo proprio nessuno io vado così adepti perché veramente ho difficoltà se no ok allora vediamo che avevamo trovato altre perfetto l'elmo già lo ho bottiglie di incantamento ok quindi tac velocità allora l'elmo già lo ho esatto no sì quindi niente di che forse ho visto uno lì non lo so qua qua freccia canata pesca attenzione attenzione adepti esplosione oddio oddio sono ritornato al mio spawn adepti per quanto mi sono cagato in mano ma che cacchio c'è avete visto benissimo guardate quante ceste ecco un momento utile in cui magari mi può servire un po' di dirty per arrivare fino a la oh perfetto arco già lo ho mi servono le frecce ok dai buono bottiglia la città qua pozione di veleno ah no visione notturna ho letto male ok allora andiamo fino andiamo qua adepti aspettate che non si vede più niente ovviamente no tutti gli altri si stanno uccidendo tra di loro io invece qua come un pirla a fargli vedere queste cavolate però adepti mi conoscete sapete che sono abbastanza frizz ok pozione di rapidità sempre no no vabbè questi stan male cioè ragazzi se adepti se arrivasse qualcuno qua adesso potrei camperarmela come un pezzo di cacca mamma mia andiamo qua che questa qua mi pare di non averla aperta esatto 12 di torcia cavolo ho finito la pozione però se non sbaglio no sono un pirla forse era questa no speed forse era questa che aveva la pozione di porca forse era questa no boh adepti quale cavolo era che aveva la pozione un po' più di colibri di brio e ciao qua stiamo attenti siamo messi maluci perché per me qualcun altro qua sicuramente ha sicuramente qua qualcun altro ha molta più inventory chaos ok quindi niente e mia ecco mi ha sputtanato tutto sì ok stiamo calmi però perché io avevo un ordine qua dentro e che cacchio e che cribbio allora questo velocità qua perfetto e ovviamente latte io direi la tnt proviamo a vedere l'effetto ok vediamo il danno che fa proprio quindi ok proprio cieca siamo diventati proprio al buio completamente ha proprio anche quelle torce ma pensa ok dai dretti è fino ad ora sono molto soddisfatto perché non abbiamo ancora ucciso andiamo di qua andiamo di qua dai andiamo un po' alla ricerca di queste nutri adepti li dobbiamo stanare però vedete tutti stanno camperando di brutto in un loro angolino aspettando che qualcuno arrivi ecco avete visto warning potion avete visto che serve a questo latte gli altri invece rimarranno fregati no addettissimi cosa ne pensate io direi questa la usiamo però andiamo avanti no piano 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 poco per volta io li sto cercando dai più avete visto buonissimo adepti melatono addirittura addirittura no cosa vuol dire inventory drop vabbè non è cambiato quasi nulla no allora la bottiglia stiamo così però perché mi cago bene adepti adesso la situazione non è malvagia è la situation però io sento voi sentite qualcuno ditemelo anche voi con le cuffie adepti a manna cuffietta e via ok ho raggiunto un limite cester e feel bene quindi tac latte che mi serve come sempre allora io arco sono messo bene poi ho la mia mitica spadozza quindi a colpi c'è questa partita si basa tutto nell'andare a recuperare dalle ceste le cose ovviamente ma io non ci posso far niente cioè sono questi che stanno lì a cincischiare adepti si experience dirty dirt cioè non l'ho capita questa forse si riazzera c'è guardate qua quante cose ho la visione nottunno utilizziamo la immediatamente proprio immediatamente così almeno ooooh ci vediamo tutti ma dove sono finiti tutti madonna mia io sto trovando uh e questo e questo dove è uscito sentite c'è qualcuno qua eccolo lo vedo lo vedo lo vedo no vabbè switch cioè oddio che culo mi ha cambiato di posto rispetto a un altro mamma mia adepti lo sapevate che io ero morto proprio mortissimo lo sapete vero c'è proprio morto come se non ci fossero domani allora stiamo calmi stiamo calmi che quello l'avevo visto bello full eh buono buono pure i gambali buonissimo shhh c'è successo parti oh mamma mia mi son cagato in mano in una maniera atroce ha detti in una maniera atroce allora io ho un po' di arco quello se l'hai enchantato perchè ci sono pure gli enchanting da qualche parte qua visione notturna cacchio successo mamma mia che infamio metà c'è metà stavo per morire stavo per morire ah ce la faremo adepti ce la faremo uccidere qualcuno ho dei dubbi eh ho seriamente dei dubbi allora io direi utilizziamo la mela che così comunque ci abbiamo due cuore in più adesso mi direte no sei un pazzo perchè l'hai fatto eh adepti lo sapete ancora 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 mamma mia ok nuova ma io è possibile che oh vi giuro ho fatto una partita prima trovavo non so ho trovato solo enchanting qua dove si va questo non ho fatto io sto bocchino eh no super spada ancora bene 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 quindi eh no questo non l'ho fatto io ma non è che magari sono proprio al fondo della mappa qua tipo giù 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 mamma mia dove si va una torcia non mi direi che sono io no va vero dove ero io adepti vi dico solo questo mmm porca ah allora ah vabbè dai più o meno mi ha rimesso le cose un po' come erano tranne l'arco e e la pala e il latte vabbè dai però uffa state fermi dai ma quanti ne mancano scusatemi un attimo siamo in tre cioè riusciremo a trovarci prima o poi o o no eh allora io direi mettiamo questo o questa forse la canna extra chest oh 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 qui cinissine ehi la eh lo so che faccio a far così faccio malissimo adepti ok dice un enchanting andiamo verso l'enchanting per me adepti verso l'enchanting morte sicura proviamo ad andar di qua cioè questo si è scavato il tunnel della morte adepti questa nutria si è scavato proprio il tunnel della morte io sto piazzando delle torce così almeno magari riesco a vedere anche meglio mamma mia adepti sembra un horror questa mappa un fottuto horror se almeno di qua madonna mia adepti qua uno sputo e son morto ok allora dai tac eh cacchio non c'ho livelli anche io eh ma qua mi fottono qua mi fottono a lui mi suono però ci proviamo dai no no cacchio ho fatto adepti ci proviamo dai 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 xd cacchio ridi no eh no non ne olvidiamo industributibilità contraccolpo dai veloce industributibilità contraccolpo veloce contraccolpo forse sempre contattiamo questo ho sentito avete sentito adepti è qua vicino è qua vicino io lo sento è qua adepti è qua è qua da qualche parte qua oddio 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 no no vabbè adepti mi sono cagato in mano vi dico solo questo adepti vi dico solo questo vabbè dai allora niente adeptissimi fatemi sapere ovviamente nei commenti ditemi quanto sono scarso da 1 a 10 da 1 a nutri adepti per me sono nutrissimo e direi che ci possiamo sentire alla prossima ditemi se vorreste un altro episodio di questa nuova modalità e mi raccomando sempre e solo e fottutamente stay idiot ciao 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 sono infame man sono infame